Benvenuti nel Super Mega Iper Episodio Finale di Echo! Ehi ragazzi, come va? Io sono Feriniki! E io sono Stefano, che sei giocamare? Echo! E oggi siamo qui con quello che sarà l'episodio finale, so già che vi starete tutti disperando in questo momento, starete urlando no in giro per la casa, ma abbiamo ovviamente una spiegazione. Ma come sei drammatica! No, lo so, perché anche a me dispiace finire questa serie, quindi immagino che in questo momento i consolini sono tristissimi, proprio stanno piangendo tantissimo e quindi sto soffrendo anch'io. Va bene, sì, io questa qua sarebbe una di quelle serie che vorrei vedere all'infinito nel canale proprio da giocare io stesso, però praticamente siamo giunti alla parte del gioco che diventa, diciamo, un po' più multiplayer. Praticamente tutto quello che c'era da fare lo finiremo di fare appunto oggi, quindi tutta la prima parte della sopravvivenza, della costruzione della casa, eccetera. Adesso il gioco andrà a svilupparsi nella questione politica, commercio e così via. E tutto quello si basa sul giocare con tanti player. Purtroppo i server che ci sono sono con persone a caso, quindi siamo obbligati, diciamo, a fermarci sulla prima parte del gioco. Sarebbe bello in futuro organizzare magari con altri youtuber una versione che va anche appunto a questa fase, che secondo me sarebbe anche la più bella. Uh, a voglia, a voglia, a voglia. Però per adesso appunto finiamo così e non escludiamo possibilità appunto di rifarlo. No, certo, ecco è nato proprio come gioco, se proprio entrate nel sito, proprio gli sviluppatori dicono sempre, ecco mi raccomando è un gioco fatto per giocare con altri player, quindi se vedete un player mi raccomando salutatelo, giocatelo con l'or... Cosa stai facendo? Mi ha scoperto. Cosa stai facendo? Eri noiosa, ok? Vuol dire, giocate con l'ora e così via. No, allora, sei tu noioso che hai spiegato per due ore e mezza, ci siamo tutti addormentati qui, capito? Sono tutte noiosi. Colpa tua. Cioè sei noiosissimo, l'abbiamo capito che qua si basa sulla gestione economica, ma nessuno c'ha voglia di sentirlo, ok? E allora ti metto a fuoco. Allora, vuoi litigare con me? Sì, vai, tira fuori la tua torcia che nessuno vede. Vediamo cosa vince tra la torcia invisibile. Questa però la vedi. Oh no, questo è un problema. E tu questa la vedi? No. Peccato. Vabbè, pazienza. Allora, iniziamo subito con far vedere i nostri progressi della casa. Esatto. Mi sembra la cosa più importante, abbiamo fatto una figata. Sì. Se qui entrando vi sembrerà un po' una scuola con questi banchi, però secondo me è fighissima. No, ma guarda che il tour della casa lo devo fare io, cara. Se tu parli, io non vengo e tu parli delle cose che non vedranno mai, perché il tour lo faccio io, hai capito? Hai capito? Non ti allontanati con quell'altra. È mio l'onore. Prima di tutto abbiamo messo questa qui che dovrebbe essere una torcia, un focolare che possiamo accendere, che secondo me... Ci proviamo ad accenderlo. Dopo appena fa notte, sì. Sì, 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 sì. Dopodiché qua abbiamo messo doppio tavolino per, diciamo, arredare un pochettino. Le ceste tutte ordinate, come vedete, con addirittura i signi per scrivere cosa c'è dentro. Secondo me sono super fantastiche. delle librerie qua che avevamo già messo effettivamente, un tavolo da lavoro così e secondo me... Questa stanzina abbiamo sistemato, facciamola vedere. È molto bellina. È molto bellina. Sotto è figo, guardate un po'. Sotto è bellissimo, sotto è bellissimo. Se me lo state chiedendo, questo di destra è quello che serve, appunto, a fare i lingotti. Quello non l'ho visto neanch'io. Eh, adesso, per quello io meritavo di fare le tue. Io sono entrata, mi ricordavo questa stanza diversa, invece tu l'hai cambiata, senza dirmi nulla. Sei una persona terribile perché mi devi fare queste cose. Perché adesso è più bellina, era una sorpresa... Non ho i pantaloni sporchi. Sì, sì. Non ho i pantaloni. Ce li hai sporchissimi. Ho scoperto nei comandi proprio disponibili per i player che se tu scrivi avatar in chat te ne cambia con uno casuale. Quindi c'è due ore che ho cambiato avatar e alla fine mi sono stancata e ho tenuto questo. È la seconda parte, in cinque minuti che hanno i consolini. Complimenti, brava. Vieni. Bravissima. Vieni qua. Vieni qua. Eccomi. Andiamo a far vedere il secondo piano così non ti sento più. Allora, purtroppo la scala è rimasta sempre fuori perché non c'è spazio dentro. Dentro non c'è spazio e dovremmo farlo ancora più grande. La scala sta per forza così dritta. Non la puoi fare attaccata a un muro? Sì, non possiamo fare forme, non possiamo attaccarla ai muri. È un disastro. Si vede che in quello sono ancora molto in alfa, dato che il gioco è appunto in alfa. Certo. Abbiamo messo un po' di cesta, abbiamo messo il soffitto, l'abbiamo diviso in stanzine e questa è una sorpresa che tu non avevi visto. Hai riconosciuto che cos'è? Perché te ne vai? Fereniki. Fereniki, torni qui, players. Come on. Vado a farmi una casa senza di te. Come on, Fereniki. Senza di te da sole in mezzo alla foresta con i bufali. I bufali diventeranno miei amici e io non ti calcolerò più. Dai, su, vieni. Non seguirmi. È una sorpresa, è una sorpresa amichevole. No, questi sono dispetti. Ma perché? Come solo tu li sai fare, sono sempre dispetti. Perché hai un dispetto? Perché fai le cose quando io non ci sono, quando io tipo sto facendo le miniature dei video e tu ti metti a giocare a eco senza di me fai queste cose. Quindi sono profondamente offesa. Esatto. È andata proprio così, è zecato in pieno. Allora, vieni che facciamo vedere a che serve. Ok. Praticamente tu cosa faresti? Clicchi su questo oggetto, no? No, serve per tagliare la legna, giusto? Sì. Sicuro? Praticamente deve stare vicino al tavolo da carpentiere. Ok. E a questo punto tu tutte le cose che richiedono quello strumento le puoi fare. Ok. Ah, ok. Figata. Esatto. Finalmente ha capito. Con questa legna nuova che abbiamo, possiamo fare il tetto più figo e le finestre moderne più fighe. Ah, che bello. Poi anche... Ah, il recinto, cara. Ecco, ti sono per chiedere, ma il recinto lo possiamo fare per chiudere almeno sto balcone che è rimasto ancora aperto? Sì che possiamo, sì che possiamo. Li metto subito a craftare e poi vediamo un attimino che altro fare. Ok, il recinto è pronto. Vai, ne dici tu, ne dici io. Piazziamo, piazziamo. Allora, dici così. Hopla. Oh, guarda che bello. Hopla. Hopla. No, è troppo bello. Hopla. Hopla. Troppo bello. Vai, metti ne un ultimo tu. Piazziamo. Oh, yes. No, vabbè. Aspetta. Ci posso lanciare? Sì, voglio vederla anche da sotto. È molto meglio. Dai, almeno ha senso. Sembra molto di più un balcone, no? Sì. Ha molto più senso. Sì, pelina. Non è male, non è male. Lo vorrei mettere poi magari, guarda, sarebbe carino anche tipo qua così. A me è avanzato qualche pezzo. Perché non lo posso girare? Ah, ok, solito discorso, ok. Sarebbe carino. È vero? Eh sì, mica male. Aspetta, quanti ne ho ancora? Dai, un pezzettino riusciamo a farlo. Vai ancora lì? Ok. Pezzettino riusciamo. Ne ho ancora, eh. Vai, vai, fammi vedere. Mi messi così tutti tu. Ok, finiti. Carino. Sì, 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 sì. Ci sta perlomeno in questo pezzo, mi piace molto. Sì. Perfetto. Allora, a questo punto io vorrei provare a vedere un pochettino questo con il coal, quindi dobbiamo cercare del carbone a qualche parte o guardacene qua. Ah, perfetto. Vediamo un pochettino. Opla, opla, opla. No, che bello. Ma scherzi, non mi aspetta molta sta luce. È un focolare gigante. Guarda, tu vieni da lontano, ti illumina tutta la casa. Ti illumina tutta la casa, è fantastico. Molto, 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 molto carino. Vedi già subito due cose bellissime. Prossima cosa da fare. Sì. Le sei tu. Tu hai fatto tutto senza di me. Adesso tu ti arrangi, perché cosa ti aspetti che io ti consigli qualcosa? Certo. Cioè, non so neanche cosa c'è in questa casa che io stessa ho costruito. Vieni con me. Spiegami come posso. Non fare la ragazza plateale è arrabbiata. Ma io sono plateale. Vieni, vieni qua. Vieni in cantina. Eh, vai. No, non mi chiudere in cantina. Mi ha capito. Sei troppo banale e scontato. Sono troppo prevedibile. Allora, qua. Banale, non prevedibile. Banale. Qua. Grazie. Sempre gentile. Sì. Abbiamo il vetro, i brick, che sarebbero i mattoncini. Ok. Ok. E i mattoncini per fare il tetto. Ok. Ok. Io vorrei provare un po' di glass e quindi ti impari tu a farlo, perché io non ho voglia di prendere dei punti. Ok. Dov'è? E poi a fianco a stone working. Ah, ma non lo posso imparare. Aspetta. Ci serve il libro? Ci serve il libro anche di glass working. Oh, che bello. Andiamo a vedere cosa tutto serve. Cosa tutto serve per fare il libro. Fateci divertire. Ci mancava fare un po' di libri. Allora, G, perché glass è di G, glass working skill book, 50 di sabbia. Per di più 30 minuti. Ok. Metti a fare sto libro, grazie. Allora, libro. Lo metto io. No, non posso. Vai. Allora. Serve il glass working research 1. Quello ce l'hai? Sì? No. No. Perché ho detto, prova a farlo. Se me lo fa voglio, ragazza. Hai fatto bene a provarci. No. Mentre aspettiamo che Ferinichi arrivi a 50 punti. Sì, tanto non me ne mancano molti, quindi ce la posso fare. Direi di craftare un po' di roba. Allora, facciamo il water wheel e il windmill. Ok. Che sono due cose davvero fantastiche. Che non ti voglio dire esattamente cosa servono. Ho già capito. Oh, no. I mulini sono. Eh, sì, ma sono molto belli da vedere. Ok. Mi sfido. Serve il primitive mechanics spitz. Ok. Che credo sia questo. Vediamo se così li posso già craftare. Nel caso poi ci serve solo portare un po' di legna qua. Dimmi che possiamo. Sì. Ok. Allora. Ok, perfetto. Una cesta con della legna e un po' di tutto. Vediamo qua in un po' di tutto. Dieci di legna li ho trovati. Ce ne servono più o meno una quarantina. Allora, qua ce ne sono altri dieci. Ok, portali. Te li prendo, te li porto. Sì, mettili nel carpentiere. Mettiamo a fare entrambi che sono questo che costa 20-30 minuti e 30 minuti. Ok. Mettili a fare e aspettiamo. Mentre si crafta tutta quella roba da tutte le parti, mettiamo anche qui a craftare un po' di roba. Pensavo di provare una, tipo, cinque finestre. Ok. E poi un sacco di tetto. Il tetto quello bello. Ok. Che dici? Dove ci senti sei finito. Sopra. Sono al piano di sopra. Non ti vedevo più. Sì, sì, sono d'accordo. Allora, quanto me ne esce? Ma me ne esce tantissimo. Vai così, ne faccio 52. No, ho sbagliato. Volevo mettere a fare le finestre. Ok. E poi a fare i tetti. Hai messo a fare i tetti. Ho messo a fare i tetti e poi le finestre. Quindi ora ci trocca aspettare che finiscono i tetti per fare le finestre. Olpa tua. Capisci? Sì, ho capito tutto. È un bel problema. Però nel mentre qualche tetto ce l'abbiamo. Quindi adesso ne prendo due e li proviamo a mettere tramite il balconcino per vedere come sono esteticamente. Sì, sì, sono d'accordo. Vediamo. Vediamo. No. Secondo me bisogna fare una specie di salitina o qualcosa del genere. Aspetta, forse così. Dai ma, ok, sì, ce l'ho fatta. Uh, aspetta. Allora, quindi ovviamente lì è l'ultimo punto dove lo mettiamo. Non ce la faccio. Vabbè, guardo da giù, non mi interessa. Va bene. E tacchete. E tacchete. Com'è? Bruttissimo. Davvero? Mm. Cioè che forma è? Più che altro volevo vedere perché ho notato che c'era un sacco di roba interessante. Tipo, allora, voglio provare a craftare un altro po' di roba. Allora, 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 dove sono le cose più intriganti. Tipo c'era una roba che era il treasury. Che dovrebbe essere tipo una banca. Capito? E che ce ne facciamo di una banca? Nulla. Però è figa. Per metterla perché è bella. Sì, sì. Esatto. Dato che non la possiamo sfruttare nel multiplayer totale, ce la mettiamo solo per dove facciamo gli egoisti. Ho bucato il muro per sbaglio. Perfetto. Ah, ma stava qui. Eh. L'unico che non aveva controllato. No, io sono andata a controllare appunto perché aveva senso che fosse un questo tipo di tavola. Allora, c'è un problema. Prima di tutto il craft da un'ora. Ma vabbè, possiamo anche far finta di nulla su quello. Chiede i brick che sono appunto i mattoncini. Quindi dobbiamo andare, secondo me, a metterti i punti in mattoncini. Anzi, forse lo metto io. Vediamo quanto costa. Dovrebbe essere su mesi... Cosa sono i punti in mattoncini? I famosissimi punti in mattoncini. Ok. Dove sono? E se non li posso fare pure io, eh. Credo. Dipende da quanto costano. Credo che dobbiamo mettere a fare un altro libro. Oh no. Dopo quello che abbiamo già messo a fare, ce ne serve un altro? Ah. Aspetta, vado a vedere subito nella nostra kiln che ci dice. Comunque è tutto troppo complicato. Allora, stone working a tre. A quanto hai stone working? Ah, non lo so. Penso forse a due, non mi ricordo. Ah, eccolo, sì, stone working. Il primo costa un punto. Il secondo cinque punti. Il terzo venticinque. Ah, me lo posso permettere. Allora fallo tu, dai. Ok. Pacchete, pacchete, pacchete. Perfetto. A questo punto io posso fare i brick. Per fare i brick ci serve tre di pietra. E di pietra siamo preni. E ci serve però il pitch. E il pitch si faceva, mi pare, al workbench. Non ci sto capendo più nulla. Sì, io, neanche io. Mamma mia, quante cose ogni volta. Io dico parole. Io dico parole a caso. Quante cose ogni volta. Cioè, davvero lunghissimo poi ogni cosa da fare. Sì. La fanno sempre, sempre sudare. Decisamente troppo. Visto che ci sono, metto a fare anche del tetto in pietra, magari più bellino. Non si sa mai, sai. Non vorrei. Secondo me, guarda qui, coi tetti, non è che abbiamo pietro. Ho fatto 40 pitch. Il problema è che pesano talmente tanto che ne posso portare solo 13. Quindi, prendi neanche tu un pochettino. No, forse li lasciati nel private. Dannazione. Aspetta, controllo. Eh, controllo al volo. Però credo di averli lasciati nel privato, vero? Eh sì, eh sì. Non ci sono. Disgraciate. Allora, deposito questi. Quanto bricche potrei fare così? Pa, 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 e 13. E ce ne servivano 15? Vai, deposita anche i 5 che ti si è presa. L'ho già fatto. Ah, ok. Allora, 15. Sono troppo efficiente. Insomma. Dai. Insomma. Adesso. Basta, no? Devo prendere, sì, devo prendere un attimino i lumber. No, li abbiamo finiti. Come abbiamo fatto a finirle? Allora, aspetta. Forse 15 ci escono così. Fammi vedere. Ok, ci escono giustissimi. Due minuti e venti. Comunque erano 20. Erano 20. No. Erano 15. No? Mattoncini, sono 20. Sicura? Se guardi la banca, sono 20. E io te l'ho detto da 5 minuti. Cosa stai dicendo? Treasury. Treasury, 15. Da me è 15, cara. Da me è 20. 15 di legna e 15 di brick. 20 di legna e 20 di brick. Cos'è questa stregoneria? Hai qualche punto che ti permette di... No. Sono più bello. È solo quello. Allora, quindi, ricapitolando, dobbiamo aspettare un attimino tutto questo, poi mettiamo a fare la banca e poi riprendiamo. Quindi ce ne andiamo a fare merenda, passeranno tipo 40 minuti e saremo pronti a finire l'episodio finale super epico dove ci addormentiamo e moriamo. Il buon vecchio, ecco, vero? È proprio un caldo amico che ti tiene sempre in compagnia. Ogni volta che non lo registriamo mi dimentico, ok? Perché, capito, te ne stai a farmare con calma. Quando poi faccio i video mi ricordo che dobbiamo aspettare tutte queste ore. Ah, proprio. È stato bello. Allora, guarda. Dove l'hai messa? Spim! Ho sbagliato, no, no. Qua non va bene. No, no, scusa. Scusami, abbiamo una stanza gigante qua, mettila qua. Ok. Secondo me è fighissima qui così. È fighissima o è davvero gigante? Fammela mettere, ti prego. Ok, guarda. È bella, sì. Vero? Vero che è bella? Ah, qua ci sono le tasse, quindi. Ok, praticamente. Infatti vedi che dice le tasse sono bloccate perché nessun leader è stato eletto. Esatto. Come vi dicevamo c'è proprio il bisogno di essere in tanti. Praticamente, voglio spiegarlo al volo, c'è proprio il tavolo per fare le elezioni politiche. Viene eletto un leader. Il leader può decidere appunto le tasse da mettere e tutte le persone dentro a quel mondo dovranno pagare le tasse. Con le tasse si potranno investire su tecnologie, eccetera. Insomma, ha proprio una parte gestionale fighissima che purtroppo non possiamo far vedere. Allora, tu qui mi hai parlato di tavolo per eleggere leader. Hai detto che non si può fare perché abbiamo bisogno di altri player. Ma io dico, è un leader qua davanti a te. Che bisogno c'è di eleggerlo. Che bisogno c'è di eleggerlo. Cioè, le metto io le tasse a te carissime. In modo tale che ti spenno, io mi prendo tutti i tuoi soldi e faccio la vita da una babba. Ok, va bene. Guarda. Non ti piace il mio piano politico, no? No, 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 per niente. E do tutto agli animali? Guarda, preferirei votare Paperino. Ma vado a vivere in mezzo agli animali senza di te. Ok, arrivederci. Allora, qua invece abbiamo finito di fare appunto il windmill e il waterwheel che dovrebbero servire a nulla. Giusto? Non lo so. Non te l'aspettavi, vero? Guarda. Bellino. Aspetta, sta muovendo? Certo, col vento si muove. Ma crea energia. Io ho niente. No, no. Bellissimo. Bellissimo. Mi sto emozionando fantastico. Ti diverti a guardarlo girare, capito? Ci provo? No, non puoi. Ci provo? Non puoi lì. Eccolo. Non me lo fa mettere. Ok, eccolo. Ma non c'è l'acqua. E certo, perché lo devi mettere vicino all'acqua. E ma ne ne abbiamo. E' inutile che la mettiamo nell'oceano. Che figo. Per la costruzione vicina. E' strano. E' troppo grande, però. E però da lì è bello. Poi ti giri ed è brutto. Sembrano accidenti di casa di quelle steampunk del 1800, piene di ingranaggi che si muovono. A me piace. A me piace. E' molto strana, dai. Sì, per estetica, molto steampunk, appunto, ci può stare, dai. Oscuriamo la tua faccia. Così nessuno la dovrà più vedere. Perfetto. E' inutile che ti rifrillascia. Non funziona, cara. Ormai sei incastrata per sempre. Stai alla larga dal tuo staff. Oh no. Ha scoperto come liberarsi. Oh no. Io me ne vado. Sono incastratissima. Parto per una nuova avventura. Anche se sono lentissimo perché peso troppo. Vieni qua ad affrontare. No, no. Vieni qua. Vi lascio la casa, io vado da un'altra parte. Vieni qua. Ciao. Buffalo, prendetemi. Voglio arrivare con voi. Della vostra mandria. Eccomi. Li sto importunando. Assolutamente sì. Allora, dai, comunque direi a parte gli scherzi di fermarci così per questo video. È stato lunghissimo. Speriamo comunque che vi sia piaciuto. Dai, credo che si sia capito comunque. Ecco, prima di tutto è ancora in alfa, quindi ci sta che abbia delle cose che ancora non sono perfette. Certo, certo. Però in generale rende al 100% quando sia in tanti. Quindi speriamo di avere l'occasione in futuro di poterlo appunto fare cogliendo al 100% di questo gioco perché sarà figo. Anche perché non abbiamo mai detto il senso del gioco. Perché l'abbiamo scoperto dopo qualche episodio. E non l'abbiamo mai detto. Praticamente dopo 30 giorni reali, quindi nel mondo vero in cui il server è aperto, cade un meteorite sulla terra che distrugge il mondo. Se distrugge il mondo è finita la partita. L'unico modo per sopravvivere è collaborare tutti insieme quelli che stanno dentro il server per arrivare alla tecnologia che serve per salvarsi dal meteorite. Cioè, è fighissimo. Cioè, comunque anche uno scopo, capito? Cioè, proprio collaborare tutti insieme come se fosse un mondo reale da proteggere. È una figata, è davvero una figata. Beh ragazzi, grazie, così se ci piace, scelteci un bel like. E se è la prima volta che avete il nostro video, potete considerare l'idea di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi. Ciao, e alla prossima! Ciao, ciao! Ciao, ciao! Ciao!